Giorno 386. A Est, gli Ukeaini sono riusciti a riottenere l'accesso alla strada per cui muove e iniziato feroci combattimenti per stabilire il controllo di fuoco su di essa. Prove video mostrano come le truppe Wagner abbiano avuto un approccio piuttosto sporco al combattimento. Dopo che hanno realizzato che il loro assalto era fallito, hanno sparato i loro feriti e chiesto una tregua a gli Ukeaini per recuperare i morti. Ma una volta che gli Ukeaini hanno accettato e cominciato a raccogliere i loro caduti, un soldato Wagner ha lanciato una granata e sono scappati senza raccogliere i loro morti. L'ultima volta abbiamo visto l'aumentare di concentrazione Wagner nel lato ovest per cercare di allargare la zona Cuscinetto e mitigare l'effetto della futura controoffensiva ukeaina, il cui scopo è quello di allentare la pressione dell'autostrada che muove. Di conseguenza il ritmo dell'avanzata verso Bakhmut è stato rallentato. Nuovi rapporti suggeriscono che la marea sta cambiando ancora una volta. La Wagner ha aumentato gli assalti su Bakhmut e i russi sono riusciti a ottenere progressi e stabilito il controllo su Zarlinianske, anche se l'obiettivo principale rimane l'accerchiamento. Circa una settimana fa le forze ukeaini avevano sfruttato la diminuzione delle attività intorno all'autostrada perché muove e respinto le truppe Wagner dalle trincee lungo la strada. Video recenti della 92esima brigata ukeaina mostra la Wagner con duri intensi ma fallimentari assalti sulle posizioni ukeaine. Nel filmato si vede anche l'esecuzione dei feriti per evitare di rallentare l'attacco. Testimonianze riportano che la Wagner aveva poi chiesto un cessato il fuoco per raccogliere i morti e promesso una ritirata, ma alla volta che gli ukeaini hanno accettato si sono ritrovati con una granata e la Wagner in fuga. Altre fonti mostrano come la Wagner abbia avuto più successo ad avanzare verso Cromove che non verso l'autostrada. Qui gli assalti sono diretti verso il villaggio, quindi la zona tra le trincee e l'insediamento è una zona grigia. In ogni caso, a causa dell'aumento di attacchi nella regione, l'autostrada è tornata a essere poco sicura, il che ha ridotto i rifornimenti verso Bakhmut. Alcuni elementi dell'esercito ukeaino lamentano la mancanza di munizioni e che, alcune volte, non hanno potuto ingaggiare nemico a causa del pesante razionamento dei comandanti. Questo ha causato confusione a causa di un video della Wagner che mostrava la devastazione delle loro posizioni, dichiarando che gli ukeaini fossero pieni di munizioni. Tuttavia, i danni mostrati sono provocati dall'artiglieria che è ovviamente collocata fuori Bakhmut. La carenza di munizioni ha costretto gli ukeaini a ritirarsi dalle posizioni più difficili da tenere, come la parte sud della città. Erano riusciti a tenere posizioni nella parte più profonda del saliente, causando non pochi problemi ai russi, ma sono stati costretti ad abbandonarle ed accorciare il fronte. Di contro, questo permette loro di rinforzare altri punti, specie ora che la Wagner è tornata a concentrarsi su Bakhmut. Secondo analisti militari, ci sono due possibili spiegazioni per la diminuzione dell'intensità degli attacchi sui fianchi e un ritorno alla città. Secondo la versione ottimista, la Wagner ha compreso che stavano sacrificando il controllo sulla strada che gli ukeaini erano stati veloci a sfruttare di nuovo. Secondo la versione pessimista, sono riusciti a completare la creazione della zona grigia e sono potuti tornare all'accerchiamento. In generale, sembra che il controllo della situazione sia tornato in mano russa. Prevenire l'accerchiamento minacciando i fianchi Wagner era una misura temporanea e ora i comandanti ukeaini devono decidere sul da farsi. Le opzioni più discorse sono la controffensiva o la ritirata. Tuttavia, in base a quello che abbiamo visto, il comando ukeaino sta improvvisando tattiche che permettono una ritirata graduale anziché tutte in una volta. E al momento siamo al penultimo stadio. E' possibile che venga trovato un altro espediente per minare lo scopo principale Wagner e costringerli a cambiare temporaneamente obiettivo per guadagnare tempo e prolungare la battaglia per Bakhmut abbastanza per farla coincidere con l'inizio della controffensiva. E' tuttavia anche probabile che non tutto andrà come secondo i piani e gli ukeaini saranno costretti a riterarsi immediatamente. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.